bene siamo arrivati al gran finale quest'oggi con noi un artista che arriva dal sud un ragazzo che a quanto pare vuol diventare famoso non Giovanni ciao fratello ciao buonasera a tutti a quanto pare sei proprio convinto di diventare famoso sì assolutamente vi spiegherò anche come il tuo primo 45 giri guarda caso il titolo è io sarò famoso sì è un'anteprima dell'LP in uscita a settembre sono contento di essere qui a presentarlo con voi a disco time perfetto ci rivediamo comunque a settembre per ascoltare qualcos'altro dal tuo LP con noi questa sera a disco time non Giovanni stop the folk io sarò famoso sfruttando le ore di riposo delle star perché bene star come bello star canta loro profetico in the world vide Italia 1 vide il suo futuro pieno di celebrità io sono fortunato perché somiglia sempre a qualcuno trovo sempre sgombra la via da quando assomiglio a Santa Maria quegli occhi ma dove li ho visti ricordi branduardi o battisti alla fiera delle stronzate le bionde tre ce le ho tagliate e se proprio devo scegliere qualcuno sostituisco caparezza quando all'influenza saluto ogni persona che aspetta quando è fuori molte lai 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 sappiano i bambini figli della gelmini che alla loro età lavoravo già per concorrere all'eredità imparo a far l'attore studiando un posto al sole se questa vita siamo noi puoi fare cose che non sai io sono fortunato perché somiglio sempre a qualcuno trovo sempre sgombra il cammino perché non so che di mucino quei ricci che fatti con te ricordano famiglia a sé l'uomo più furbo del mondo ci ha lasciato un giorno a Roma ma se proprio devo scegliere qualcuno sostituisco caparezza quando all'influenza saluto ogni persona che aspetta lai 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 la Sono fortunato ma è dura, è dura stare nella mia situazione perché Margherita è vera ma io ho solo un clone e se proprio devo scegliere qualcuno Sostituisco catarezza quando all'influenza saluto ogni persona che aspetta quando è fuori morfetta La 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 No Grazie a tutti.